Ci sono derby che entrano tra i ricordi più cari per circostanze particolari. Quello del 14 aprile 1991 ha un duplice significato per i Granata. Innanzitutto è la conferma di una superiorità sui rivali che vale per tutto l'anno, con la Juve di Maifredi addirittura esclusa da un piazzamento UEFA e il Toro di Mondonico autore di una stagione brillantissima. Ma il trionfo nel confronto diretto è ancora più prezioso per il modo in cui avviene. Dopo le reti di Policano e di Canio che si annullano, è un autorete di Fortunato a sancire la differenza. Niente è più bello che vedere i bianconeri che si fanno male da soli.